Il brand dei quattro anelli racconta la propria visione futura di sportività e lusso tramite un nuovo concept rivoluzionario. Audi Skyspear non rappresenta solo un modo di vedere le roadster, ma uno spiraglio di quello che ci aspetta nel prossimo futuro dal mondo dell'automotive. Una cabrio in grado di trasformarsi con un semplice tasto, variando di qualche centimetro sia nel passo che nella carreggiata, grazie a componenti strutturali rese dinamiche. Questo processo ha effetti sia sulla dinamica di guida che sulla vita a bordo, cambiando di fatto l'impronta della vettura da roadster spoltiva a gran turismo per lunghe percorrenze. In un futuro dove la guida nei tratti autostradali verrà sempre più affidata in modo indipendente alla vettura, su Audi Skyspear Concept troviamo la guida autonoma predisposta a livello 4, con volante e pedali in grado di rientrare dentro la plancia, a tutto favore dello spazio a bordo. Sono talmente tanti gli spunti tecnologici per il futuro da mettere in secondo piano un'estetica così filante e sensuale e la potenza di ben 632 cavalli, numeri che la lanciano da 0 a 100 orari in soli 4 secondi. Non rimane altro che mettere le ali alla fantasia e iniziare ad immaginare cosa ci attende nei prossimi anni.